Una gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobili di Torino, in salvizio ieri nel quartiere cittadino Parella, ha incrociato una Fiat 500 con a bordo due persone, il cui sguardo e atteggiamento è insospettito non poco il capo equipaggio, che ha deciso così di procedere a un controllo. I militari, quindi dopo aver raggiunto l'autovettura, seguita a brevissima distanza anche da un Alfa Romeo Giulietta con un solo individuo alla guida, ha intimato l'alt con i dispositivi sonori luminosi in dotazione. Improvvisamente però entrambe le auto hanno accelerato bruscamente senza fermarsi. La corsa A3 a folle velocità è iniziata nel capoluogo piemontese ed è terminata nella vicina Collegno, dove l'abilità del carabiniero autista ha consentito di stringere a bordo corsia i due mezzi in fuga. I tre sospettati, due a bordo della Fiat 500 e uno della Giulietta, si sono andate alle gambe elevate nei campi di Mitrofi, inseguita a piedi dai militari che sono riusciti a bloccare solo il conducente della Giulietta, un 27enne di San Severo, già noto alle forze di polizia, che indossava un giubbetto antiproiettile, uno scaldacollo e guanti e aveva in tasca varie cartucce calibro 12. La successiva perquisizione della Fiat 500 ha permesso di trovare un arsenale pronto all'uso su sedile posteriore. Sequestrate le due auto, entrambe con targhe clonate, delle quali la Fiat 500 è anche risultata rubata, le indagini proseguono per catturare i complici, verificare se le armi inviate al RIS di Parma siano state utilizzate in altri episodi delittuosi, nonché individuare l'obiettivo della banda.